Dal 20 al 27 luglio la suggestiva Certosa di Padula sta ospitando il Simposio della Scultura, un evento che propone di essere un punto di incontro tra storia, arte contemporanea e cultura. Questo simposio non è solo un omaggio alla millenaria tradizione della Pietra di Padula, ma anche una celebrazione della creatività e dell'innovazione artistica dei giorni nostri. La Pietra di Padula, celebre per la sua qualità e bellezza, ha radici profonde nella storia della Magna Grecia. Utilizzata per secoli nella costruzione di edifici e nella realizzazione di opere d'arte, questa pietra ha visto crescere attorno a sé un patrimonio culturale e artistico di inestimabile valore. Il Simposio della Scultura si propone di esplorare e celebrare questo legame storico, permettendo agli ospiti di immergersi in un mondo dove passato e presente si fondono armoniosamente. Durante il Simposio, il Giardino dei Monaci Digitali della Certosa di Padula è diventato un affascinante laboratorio a cielo aperto. Quattro talentuosi artisti dell'Accademia delle Belle Arti di Catania stanno lavorando alla creazione di sculture, utilizzando la Pietra di Padula. Questo spettacolo dal vivo offre ai visitatori l'opportunità di osservare da vicino il processo creativo dalla scelta del blocco di pietra alla realizzazione dell'opera finale. Oltre alle dimostrazioni dal vivo, il Simposio della Scultura propone un programma ricco e variegato. Scultori, docenti ed esperti in questi giorni hanno tenuto conferenze e workshop, esplorando così il connubio tra arte contemporanea e materiali storici. Tra i temi trattati si è discusso del valore culturale della Pietra di Padula, delle tecniche di lavorazione tradizionali e delle innovazioni nel campo della scultura. Il Simposio della Scultura è un evento imperdibile per gli amanti dell'arte e della cultura. Che siate appassionati di scultura, studiosi di storia dell'arte o semplicemente curiosi, questa manifestazione offre un'occasione unica per scoprire il fascino della Pietra di Padula e il suo ruolo nel panorama artistico contemporaneo. Non perdete l'opportunità di assistere alla nascita di nuove opere d'arte e di partecipare ad un dialogo vivace e stimolante sul futuro della scultura. Il Simposio della Scultura vi aspetta alla Certosa di Padula fino a sabato 27 luglio.